Che bisogna iniziarlo qui al centro di uno, perché se si ha veramente voglia di venirne fuori è il posto giusto. Guarda, consiglierei che è necessario di chiedere aiuto se si vuole tornare a stare bene. Di provare la frequenza almeno di una settimana e poi riflettere su quello fatto, insomma. Su quello fatto, quello visto, quello sentito.